Buonasera a tutti, ben trovati, iniziamo la conferenza stampa, mangiante, Sky Sport, un attimo. Vai Angelo, vai. Eccoci. Vedo innanzitutto la risposta alla reazione che si attende dai giocatori domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo e visto che si è aggiunto poi l'infortunio di Lorenzo Pellegrini, se Volpato può essere eventualmente il suo sostituto, se può aggiungere una sua idea su questa notizia che sta girando un po' su, che corrisponde alla verità, su Volpato che ha rinunciato al Mondiale con l'Australia, ha ricevuto diverse chiamate dal CT dell'Australia, rinuncia al Mondiale perché lascia la porta aperta all'Italia, perché a me sembra manifestare l'ambizione forte di questo ragazzo che ha 18 anni. Tre domande. Sì, tre domande, ecco, diciamo che uno è su Volpato e l'altro è sulla partita. L'unico giocatore che io confermo che gioca domani è Ibanez, la squadra domani è Ibanez più 10. Volpato nazionale, prima di tutto penso che è una questione personale e non di società. io per esempio come allenatore mi rifiuterebbe a entrare con un giocatore anche se giovane, è una situazione di questo tipo. però quello che ho capito è che questo è l'inizio della sua carriera, che stare crescendo con la Roma a giocare i suoi primi minuti consecutivi, non come l'anno scorso dove ha giocato una partita contro Verona, dopo non ha giocato di più, penso che adesso ha fatto già quattro partite di file, che ha giocato tutte le quattro. sta in un processo di crescita dove secondo me si deve concentrare nella costruzione del suo futuro e non adesso stare con questo tipo di decisione dove magari qualcuno vuole accelerare un processo che non deve essere accelerato. per me è questo il punto. la reazione che mi aspetto è la reazione di sempre quando questa squadra perde una partita è una squadra di gente buona, è una squadra di gente che soffre quando perde. sappiamo che siamo una squadra che ogni volta che perdiamo un giocatore che siamo una squadra in difficoltà, che fa fatica a trovare soluzioni però che alla fine sempre arriva qualcosa. però mi aspetto domani una partita molto difficile contro una squadra molto difficile che l'anno scorso ci ha regalato due partite veramente difficili e che quest'anno secondo me ha ancora più talento nella squadra che aveva l'anno scorso. aspettiamo una gara difficile però mi aspetto da parte dei miei tutto lo sforzo possibile per tornare a sorridere che è qualcosa che ovviamente non facciamo da due giorni. grazie Serafini a essereuma.com buonasera mister torno su Ibanez perché sono arrivate tante critiche non c'è niente da tornare su quello che ha detto lei che partirà di isolare domani domani ai Ibanez più 10 penso al di là di quello che possa essere la tua la tua domanda la risposta è questa la risposta è questa è il rispetto rispetto per chi dal giorno in cui sono arrivato fino a oggi da tutto quello che ha anche qualche volta in situazione di grandi difficoltà l'anno scorso abbiamo avuto un periodo dove era lui l'unico difensore centrale praticamente che Smoling era infortunato Mancini era squalificato Kumbu era infortunato era sempre lui che era lì ogni partita quest'anno siamo andati a Sevilla quando l'ho visto alla mattina pensavo che era impossibile giocare quella partita lì l'ha giocato è uno che dà sempre la faccia quando vincevamo vincevamo tutti quando perdiamo perdiamo tutti per me è intoccabile non c'è storia una cosa che mi aiuta è non leggere pochissimo stampa i social media zero perché al di là del mio divertente Instagram che metto lì le cazzate solo per ridere non leggo niente questo magari mi aiuta però per me il bagno è intoccabile domani lui più 10 grazie grazie Cecchini Gazzetta dello Sport buonasera buonasera volevo chiedere questo la Roma in trasferta va molto meglio e quest'anno ha fatto 16 punti su 25 si è data una spiegazione di come mai fuori casa una striscia aperta di quattro vittorie di fila ora arriva una partita in trasferta e quindi c'è la possibilità di allungarla si è data una spiegazione di come mai in trasferta ci sono più spazi ci sono è un modo di giocare diverso vi strutturate diversamente a casa ci sono tre partite che noi abbiamo segnato no? Napoli Atalanta e Lazio sono tre partite io devo anche posso piangere anche un pochino io no? perché gli altri allenatori piangono 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 io non piango mai devo piangere io anche un pochino tre partite senza il nostro giocatore più creativo il nostro giocatore con più gol il nostro giocatore con più pallina attiva il nostro giocatore con più mobilità nel campo il nostro giocatore che può aprire blocco compatto e blocco basso e l'Atalanta ha giocato così della Lazio neanche parliamo perché è stato un un esempio fantastico di quello che è giocare di un modo che se sono io a giocare così mi ossidano però l'importante è vincere l'importante è vincere io ho vinto tante partite nella mia carriera giocando così l'importante è vincere però per noi quando manca quel giocatore lì per noi è difficile il Napoli è diverso il Napoli ha fatto una partita contro di noi dove ha cercato di vincere dopo difende molto bene ha difensori bravi però anche così abbiamo avuto le nostre possibilità penso che non è facile per noi con le caratteristiche che abbiamo noi è così se tu guarda per esempio la ultima partita nostra l'ultima partita nostra se non sbaglio abbiamo giocato con la stessa squadra dell'anno scorso dell'anno scorso di un modo generale con Madi nella posizione di Mkhitaryan questo significa che il bello mercatino che noi abbiamo fatto con tanto sforzo con tanta dedica con tanto sacrificio con tanto bel lavoro da parte del direttore della società questo mercato non sta giocando il nostro uomo fondamentale devo piangere io anche un pochino Di Bala non gioca da quante partite tutte queste partite grande non ha giocato una ha giocato contro l'Inter ha fatto gol e abbiamo vinto ha giocato contro la Juve ha fatto l'assista abbiamo pareggiato non gioca queste tre partite di casa e siamo in difficoltà dopo c'è un altro giocatore Lorenzo Lorenzo che è il giocatore che è un pochettino più multifunzionale gioca un po' più in centrocampo anche se ha bisogno però è l'altro che ha questo questa luce che si accende lì gioca troppo gioca troppo minuti è in difficoltà gioca tutte le partite gioca tutti i minuti ogni tanto è un giocatore con qualche fragilità muscolare un storiale che qualche volta gli arriva lì non è che ogni partita anche lui sta fino che sta al cento per cento che sta a toppe e dopo facciamo le nostre partite che quando segniamo è molto difficile di perdere perché dopo è una squadra con solidarietà con solidarietà al di là di qualche partita tipo Udinese dove è stato veramente un disastro totale siamo una squadra compatta che prende punti e che con punti che abbiamo preso penso che siamo in una situazione in questo momento se non sbaglio siamo con le stesse punti di quindici gare dell'anno scorso che significa che se facciamo qualche punto a Sassuolo o facciamo qualche punto a casa con Torino dopo quindici partite possiamo avere in questo momento penso che siamo uguali però possiamo avere due punti un punto quattro punti sei punti in più dell'anno scorso adesso sono adesso sono tre in più quindici penso a quindici adesso sono già adesso tre in più sto pensando a quindici che quando c'è la la sosta questa e con tutte queste difficoltà siamo lì facciamo il nostro lavoro e già sta cerchiamo sempre di combattere i nostri i nostri problemi però non possiamo nascondere che abbiamo dei nostri dei nostri dei nostri problemi grazie grazie Maida il Corriere dello Sport ho parlato tanto già si Maida più due Maida più due buonasera mi rilascio a questo discorso perché è proprio la domanda che le avrei fatto io al di là di tutti questi problemi che indubbiamente avete avuto vi hanno disintegrato il mercato ma lei è soddisfatto dell'evoluzione che hanno avuto i giocatori però parlo di singoli dopo la finale di Tirana il suo gruppo di Tirana si è evoluto bene perché se andiamo a esaminare il rendimento di ciascuno di loro a me viene in mente un paio che sta giocando ai suoi livelli uno è Smalling per esempio gli altri sono un po' tutti sotto livello non sono totalmente d'accordo con con te penso che che Mancini sta meglio quest'anno che l'anno scorso molto più equilibrato molto più controllato penso tre cartellini gialli in tutte queste partite penso che Bagnes al di là di questa partita questa partita no questo episodio in questa partita sta molto equilibrato c'è una cosa che che per me ha anche un'influenza generale che è noi abbiamo perso tre giocatori di centrocampo tre tre tutti loro si può dire titolare Mkhitaryan Veretout e Sergio Oliveira abbiamo perso tre Wijnaldum non gioca una partita non gioca una unica partita già non abbiamo tre abbiamo solo due dei due uno è un ragazzo che è arrivato l'ultimo giorno di mercato è un ragazzo che va crescendo a poco e poco però la dinamica di squadra la dinamica collettiva movimenti difensivi movimenti offensivi è un ragazzo che ancora sta cercando sta migliorando però ancora sta cercando e dopo l'altro è Nemanja che non è venuto per giocare insieme a Cristante e che si trova spesso giocando insieme a Cristante noi purtroppo abbiamo avuto dei problemi inesperati inaspettati in che? inaspettati inaspettati in questo mercato e anche nell'anno scorso perché l'anno scorso quando Spinazzola si fa male nell'euro abbiamo dovuto avere una reazione inaspettabile e siamo dovuti andare nel mercato in una direzione che noi non volevamo ma purtroppo abbiamo avuto questo tipo di infortunio però io sto piangendo piangendo tanto e non mi piace piangere tanto mi piace dire ok tutti questi problemi hanno aperto la porta l'anno scorso a Volpato hanno aperto la porta l'anno scorso a Zalewski progressivamente aprono la porta a Bove dico già per voi non avere una sorpresa presto Tarovic gioca e magari gioca da titolare perché lo vedo con una crescita molto forte dal momento che sta allenando con noi e vediamo le cose di un modo positivo positivo anche e vediamo mancano due partite alla sosta vediamo i punti che possiamo fare vediamo la classifica che abbiamo nella nella sosta anche se non è neanche metà di metà di campionato sarebbe un po' più logico sosta metà di campionato non è ancora però vediamo la tua domanda per non andare via dalla tua domanda c'è gente che mi aspettava di più sì non posso nascondermi e dire che sono soddisfatto della evoluzione o involuzione di qualche di qualche giocatore non posso nascondere quello che posso nascondere è di non dirti chi sono loro perché penso che io come come allenatore devo parlare dei miei giocatori individualmente quando ci sono delle belle cose da dire anche come atteggiamenti mister per intenderci Karlsdorp che esce e va negli spogliatori direttamente è una cosa che non avevo mai visto prima è tornato è tornato un minuto dopo tu non sai quello che lui ha fatto ah no ok forse delle urgenze tu non sai no non sai che ha fatto non sai se si ha preso il ghiaccio perché lui è uno che soffre permanentemente è un ragazzo che ha sempre se non è a ginocchio è aduttore se non è aduttore ha la febbre è un ragazzo che ha tanto tanto di questo tipo di di problema l'ho visto lì dopo due minuti in panchina non l'ho visto come un atteggiamento io quello che potevo dire magari è che non è non vedo questa questo non è per me un problema il problema che io vedo che si può o che si doveva migliorare è la l'accettazione di una sfida diversa della sfida dell'anno scorso la crescita nella mentalità la crescita nella responsabilità la crescita nella nell'ambizione non essere soddisfatto di aver raggiunto questo livello qua e di essere contento di cercare di andare al di là a questo livello e non stiamo parlando di Carzorp stiamo parlando di globalità a questo livello sì penso che per esempio se io sono soddisfatto con con la mia carriera nel 2010 si deve dimettere cioè smettere e magari aveva dei motivi per essere soddisfatto con tutto quello che aveva raggiunto in quel momento là penso che il giocatore è un po' lo stesso la gente deve sempre esegire di più a se stesso fino all'ultimo fino all'ultimo giorno grazie Roberto Zotti 2 Corriere della Sera Buonasera mister ciao ciao le volevo chiedere rapidamente se sta pensando ad un cambio di modulo magari già dalla prossima oppure di studiarlo durante la sosta prima ci ha detto Camara e Matic non sono una coppia perché allora durante il derby scusi Cristante e Matic non sono una coppia allora perché è uscito Camara durante il derby Buona domanda perché non c'era Wijnaldum perché non c'era Mkhitaryan perché tu giocati con quello che hai e quello che io dico purtroppo non abbiamo tanti e purtroppo siamo un tipo di società che quando abbiamo dei problemi nella rosa abbiamo più difficoltà semplicemente 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 questo il modo non lo faccio io lo fanno i giocatori con le sue caratteristiche facciamo l'ultima pastore il romanista a proposito di giocatori in evoluzione o in evoluzione mi viene in mente che spesso si è parlato di Abram soprattutto in termini di gol invece rispetto all'anno scorso e comunque più o meno in questa fase della stagione aveva più o meno lo stesso score io lo vedo tutti insomma lo vedono un po' più assente meno nel vivo del gioco mi viene da pensare tutte le volte che viene viene pescato in fuorigioco insomma magari sembra un po' distratto un po' estraneo che cosa ha? il mister ha già risposto a queste domande su Abram ripetutamente ripetutamente anche prima della conferenza con Ludo Coroz magari una buona domanda a lui una buona domanda per tu fare a lui quando lui è la persona ideale per ti rispondere ho un problema non ho un problema sto assente non sono assente penso al mondiale non penso al mondiale non lo so ma io penso che lui è la persona ideale per rispondere a questa domanda devi aspettare che lui vada a una conferenza stampa e fare la domanda grazie 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 mille